E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriel Oster e benvenuti in questa nuova recensione. Dopo aver vinto due uova di drago in questo livello base del Sgt. Bird, noi dobbiamo liberare i cinque colibri prigionieri che sono chiusi in quelle gabbie. Un colibri l'abbiamo liberato. Un rapporto, signore. I soldati colibri bisogna liberarli tutti. Intanto ne abbiamo già liberato uno. Ora andiamo a liberare gli altri quattro. Ragazzi, non sto a perdere tempo a raccogliere le gemme, se no il video si allunga in maniera incredibile. Farò solo questa parte in questo video. Ve lo prometto. Quali sono i suoi ordini, signore? Non so quali sono i miei ordini. E un altro soldato colibri l'abbiamo salvato. E siamo a due. Ne mancano tre. Fate attenzione alla lava e anche a questi sputafuoco. E sono pericolosi. Caspita, qui in Spyro 3 stiamo usando tanti personaggi giocabili. E poi mi sono scordato di dirvi che c'è da guadagnare anche un trofeo. Per guadagnare un trofeo voi dovete spaccare gli oggetti metallici con i missili. Quando ci avete un missile nei piedi del sergente James Bird, voi dovete sganciarlo premendo quadrato. Se riusciremo a salvare tutti i soldati colibri, guadagneremo un trofeo. No, volevo dire vinceremo un uovo, scusatemi. Parlo troppo veloce, poi vado nel pallone. Vabbè, errore capita. Recapitoliamo. Lo ripeto ancora una volta. Se spaccate gli oggetti metallici con i missili sotto i piedi del sergente Bird, guadagnate un trofeo. Ma se liberiamo i cinque soldati colibri, vinceremo un uovo. Tu sei pronta a fare rapporto? Io avevo bisogno di un personaggio giocabile che sia volante, che può volare con le sue ali. Non si sa quanti personaggi giocabili useremo in questo gioco. Abbiamo liberato il quarto soldato colibri. Chiedo il permesso di esultare, signore. Hip, hip, urrà! Ora si può festeggiare finalmente. Bisogna fare hip, hip, urrà! Urrà, urrà! E ancora urrà! E siamo a quattro. Ne manca uno. Ora vediamo che succede quando liberiamo l'ultimo soldato colibri. Prima di venire catturato ho recuperato quest'uovo dal nemico, signore. Brava, hai recuperato quest'uovo dal nemico. Il draghetto si ama Roy. Io vi saluto, è tutto ragazzi. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto potete anche condividerlo. E ricordatevi che alla base del sergente Bird noi abbiamo trovato tre uova e siamo riusciti a liberare cinque soldati colibri. Ora che i colibri si sono addestrati devono essere al massimo della loro condizione fisica e quindi possono sfidare la maga. Arrivederci. Gabriosta vi saluta. Ha parlato abbastanza.